e hanno aperto la stagione duemilasedici il testaccio aveva vinto la supercoppa allo sport city qui siamo al ciriaci è la tredicesima di serie a della liga calcio a otto quella in cui i campioni d'italia del cotton club vogliono proseguire la rincorsa ospitando proprio i ragazzi di broccatelli che l'hanno battuti all'esordio in questa lega c'è il trentasette del cotton club in area di rigore tenta le finte lo sgambetto arriva ed anche il fischio dell'arbitro è calcio di rigore artistico contro boni la rincorsa col mancino e la deviazione di boni miracolosa sul palo incredibile in gran forma con i tiri dalla distanza quest'anno Simone Mirante parte infatti lui quattro in barriera la palla passa De Angelis distendendosi a sinistra lunghissimo lancio su un matozzo che la nasconde alla grande poi artistico col tacco le febbre vince il rimpallo e solo in area boni col piede che parata di nuovo Simone Mirante rincorsa più laterale stavolta ma parte sempre il 16 la sfera s'abbassa De Angelis e poi la palla va fuori spinge il cotton da corner la palla è battuta molto fuori la gran coordinazione boni molto attento anche stavolta testaccio raccolto dietro prova a penetrare il cotton club c'è Nolano l'esterno che parte ma boni è insuperabile oggi l'uomo della sicurezza fabio tinazzi ad andare in verticale le febbre ancora boni sul suo palo è più intensa ora la pressione dei campioni in italia che vanno da corner stacca conti ancora boni poi le febbre in area di rigore non può sbagliare la metta alle spalle del super portiere del testaccio è un sudato ma meritato vantaggio per il cotton club salito in cattedra Nolano a destra ancora il cotton fatica a rientrare il testaccio parte un tiro è deviato le febbre però si coordina il principe in mezza girata 2 a 0 cotton il testaccio non ci sta e attacca a testa bassa ma ora si scopre artistico dalla sua metà campo boni retrocede la mette fuori la potenza di van giuliani la sfera che scorre alla sinistra di de angelis è l'ultima palla del match tripice fischio del direttore di gara che pone fine al 2016 di cotton club e testaccio oggi vincono i campioni italia 2 a 0 grazie a tutti